In arrivo, nelle prossime ore, la prima tranche di fondi per gli enti locali. A comunicarlo il sottosegretario all'interno Achille Variati che annuncia, il governo ha raccolto il grido di dolore dei sindaci. A dieci giorni dall'approvazione del decreto rilancio, il Viminale sta liquidando i primi 900 milioni dei 3 miliardi e mezzo destinati ai comuni italiani, più altri 150 per le province e le città metropolitane. 83 milioni e 400 mila euro è la cifra destinata al Veneto. I comuni hanno incassato 70 milioni di euro e le province venete 13 milioni di euro come prima tranche, a cui ne seguirà un'altra fra un mese, poco più, del più del doppio. E questo per dare respiro ai sindaci che devono poter proseguire nelle attività ordinarie che i comuni fanno al servizio dei cittadini. 69 milioni e 600 mila euro destinati ai comuni per quanto riguarda i capoluoghi veneti si va dai 10 milioni e 700 mila euro per Venezia, ai 5 di Verona i 4 milioni e 600 mila di Padova, i 2 milioni e 100 mila di Vicenza, fino al milione e 200 mila euro di Treviso, 754 mila euro per Rovigo, 398 mila per Belluno, 18 milioni e 200 mila euro quelli destinati al totale dei comuni della provincia di Venezia, poi a scalare 14 per il Veronese, 11 per il Padovano, quasi 8 per la marca Trevisiana. Un acconto anche per gli enti provinciali e la città metropolitana di Venezia, con le realtà più grandi che si assestano tutte oltre i 2 milioni. Per variati un segnale tangibile di efficienza e rapidità e soprattutto di rispetto verso le esigenze dei territori e non finisce qui, dice. Siccome il governo, ma le faccio parte, non vuole far mancare le risorse ai comuni che sono l'elemento base della nostra democrazia, preannuncio che ci saranno ancora altri quattrini nel mese di luglio. Il presidente del Consiglio Conte si è infatti impegnato a inserire nei prossimi decreti altre risorse per gli enti locali per circa 3 miliardi, andando così a raddoppiare le cifre stanziate a maggio. Una nuova manovra straordinaria conclude variati che ha come principale obiettivo ridurre per i cittadini le conseguenze dell'epidemia.